E concludiamo con il cinema, continua la programmazione in tutta la Sicilia del nuovo film di Francesco Benigno, Il colore del dolore. Questa sera sarà programmato al forum di Palermo a partire dalle ore 19, a parlarcene lo stesso Francesco Benigno con l'attrice protagonista Valentina Magazzu, ospiti ai nostri microfoni. Sì, oggi, sabato 19, sarò presente insieme all'attrice Valentina Magazzu, interprete del film al forum UCI alle ore 19 per condividere con il pubblico la visione del mio film Il colore del dolore, Palermo 30 anni prima. Valentina! Sì, ciao a tutti, ci sarò anch'io, non vedo l'ora di vedervi numerosi all'UCI Cinemas del forum alle ore 19, come diceva Francesco, quest'oggi sabato 19 settembre, forza, avanti tutte, il colore del dolore ci aspetta. Potrebbero esserci presenti anche qualcuno dei ragazzi. Ci vediamo all'UCI Forum, oggi sabato 19, ciao!